amici dei custodi della memoria amici della sardegna benvenuti siamo in territorio di tire du e oggi vi faccio vedere una chicca eccoci qua siamo al cospetto della fonte sacra fontane baule arrivarci facilissimo a trovarla per via della vegetazione alta ormai sta prendendo il sopravento insomma ci abbiamo abbiamo penato un po però questa fonte sacra merita attenzione merita tutto il nostro rispetto il nostro affetto eccola qua bellissima ragazzi bellissima ci troviamo praticamente a pochi chilometri dal centro abitato che la struttura è in tracchitte la forma assomiglia molto al ferro di cavallo meraviglioso ragazzi meraviglioso ora vediamo se riesco a a prenderlo un po da lontano straordinario ragazzi straordinario straordinario vedete qua che originalmente ci doveva essere il pavimento è incredibile poi c'è la scala con 5 gradini è ancora pieno d'acqua è ancora pieno d'acqua e in questa estate in questa estate che per lo meno inizia da ieri questa stagione che non è stata abbastanza piovosa questa cosa qua secondo me è molto 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 importante quindi scala con 5 gradini poi praticamente c'è la camera di presa che ha una forma trapezoide è bellino questo questa fonte sacra è molto bellina pertanto vi chiediamo e vi consigliamo di venire a visitarla anche se comunque dovete stare attenti alle zecche dovete stare attenti ai terreni privati richiudenti cancelli quando entrate e così saremo tutti più contenti e datarlo questo io sinceramente non me la sento neanche lo so perché insomma non non sono stati fatti degli studi e quindi non vi so dire c'è chi dice che assomigliando ad altri ad altri ad altre fonti sacri si parla di fonte sacre si parla di bronzo finale prima età del ferro ma gli esperti poi ci diranno ciao a tutti ciao a tutti amici la sardegna